da dove nasce un'idea di successo per la realizzazione di un e-commerce? Molto spesso l'imprenditore quando si trova ad affrontare l'idea di sviluppare un progetto e-commerce quello che pensa è che sia sufficiente andare a sviluppare la piattaforma e poi in qualche maniera arriveranno gli ordini, incasserà i soldi e spediremo il pacco. Dopo pochi ragionamenti con l'imprenditore è facile iniziare a comprendere il fatto che per avere successo un e-commerce sia necessario realizzare e portare traffico all'interno della piattaforma, quindi avere un marketing attivo che possa produrre delle vendite, ma in verità è ancora un'idea un po' troppo limitata. Quello che è fondamentale per un progetto e-commerce è innanzitutto avere un'idea che sia particolarmente differenziante sul mercato. Oggi come oggi esistono ormai numerosi e-commerce in qualsiasi settore, quindi lo step numero uno è quello che l'imprenditore abbia un'idea assolutamente vincente. Da lì poi si andrà a fare un posizionamento sul mercato, si andrà a ragionare su quale è la strategia corretta per aggredire quel mercato e poi andremo ad attivare quelli che sono i canali di marketing, tutta la parte di logistica, quindi come spediremo quel pacco e anche la parte di customer care, quindi di come andremo a gestire il cliente sulla fase del post vendita. Quindi il processo in verità è un pochettino più ampio e più approfondito. Quello che spesso l'imprenditore non considera è che il 90% del successo di un e-commerce è collegato proprio alla parte iniziale, quindi alla parte di idea di business, del modello di business e di come affronteremo, come andremo ad aggredire il mercato esistente. Più forte sarà il vantaggio competitivo che l'azienda riuscirà a sviluppare nel proprio progetto, più le possibilità di successo saranno in qualche maniera alte. Quindi vediamo di capire un attimino come si sviluppa un'idea di successo, quindi come arrivare a progettare un progetto che abbia una valenza sul mercato. Innanzitutto è importante secondo me fare uno step di cercare di non vedersi come un imprenditore che apre un canale nuovo di vendita online, ma proprio dobbiamo fare un salto mentale e diventare imprenditori del web, quindi dobbiamo acquisire anche una serie di skill e di competenze collegate proprio all'attività della vendita online. Ed è importante anche che l'imprenditore vada in qualche maniera ad assumere delle proprie responsabilità, perché è responsabilità dell'imprenditore formarsi e avere le giuste conoscenze, le giuste informazioni per sviluppare un certo tipo di progetto. È sua la responsabilità di avere l'idea vincente sul mercato, è sua la responsabilità di trovare i soldi, di trovare i giusti fornitori e di avere il giusto team che lo accompagna. Quindi a un certo punto l'imprenditore potrebbe chiedersi ma allora cosa mi serve l'agenzia? Qual è il ruolo dell'agenzia? L'agenzia deve da un lato affiancare l'imprenditore nelle sue valutazioni e nelle sue scelte, quindi essere in qualche maniera una parte consulenziale e poi deve essere un partner anche tecnico di portare sul mercato quella che è l'idea del cliente, quindi andando a sviluppare la piattaforma e attivando poi tutti quanti quelli che sono i canali di marketing. D'altra parte se pensiamo all'offline, quando aprite un negozio fisico e dopo un anno il negozio non vende, non è che vi arrabbiate con chi vi ha portato la scaffalatura, con chi vi ha dato il bianco sul muro, con chi vi ha venduto l'ufficio, ragionate che probabilmente avete sbagliato posizione del negozio, avete sbagliato la commessa oppure i prodotti che avete inserito all'interno del vostro negozio fisico, non sono interessanti per quel tipo di mercato. Lo stesso ragionamento dovete in qualche maniera traslarlo anche online perché è assolutamente la stessa identica cosa. Dovete capire anche all'interno del progetto cosa ci mettete voi, serve tempo, servono competenze e servono soldi, quindi cosa mettete voi, avete le competenze e mancano i soldi, possiamo trovare un investitore, avete i soldi e vi mancano delle competenze, dovete magari cercare anche di acquisire un po' di competenze, quindi anche quello che è la parte principale che mette il cliente ha un'influenza sull'importanza, sul successo del progetto. Quali sono le regole, i consigli per una idea di successo? In verità non c'è una formula magica ovviamente, quindi è un mix di attività, un mix di competenze che può mettere il cliente sul progetto. Quelli che sono i miei consigli è cercate di scegliere mercati che conoscete bene in qualche maniera, cercate di capire se avete un asso nella manica, nel senso se rispetto alla concorrenza avete qualche vantaggio perché avete degli accordi diretti con l'importatore, perché siete a livello nazionale magari su quel prodotto più forti a livello economico oppure magari avete una serie di prodotti che la concorrenza non tratta, quindi cerchiamo di capire già da subito se abbiamo dei vantaggi in termini di competitività e poi cerchiamo di ragionare anche su quelli che sono i numeri che abbiamo, quindi che margini avete su quel prodotto, qual è l'ordine medio, quindi sono una serie di numeri che l'agenzia che vi segue può aiutarvi per capire effettivamente quali sono le possibilità di successo del vostro progetto e-commerce. Ovviamente l'idea è l'inizio del processo, dall'in poi va poi portato in esecuzione tutte le attività e vanno fatte tutte le attività che servono per portare un progetto a successo. È importante che ragioniate in primis in termini di modello di business, cioè la cosa più importante è che abbiate chiaro come la macchina girerà e come tutto verrà erogato, sempre estremamente collegato ovviamente al vostro vantaggio competitivo. Io posso eventualmente proporvi alcune domande per il modo che voi possiate ragionare su quali sono i vostri elementi. Avete idea di fare una vendita semplice? Avete idea di formulare un business basato sul prodotto di consumo, quindi sulla vendita delle ricariche? Quindi magari ci rimettiamo sul prodotto iniziale, però poi abbiamo possibilità di guadagnare sulla parte diciamo di consumabile? Volete fare una formula d'abbonamento? Avete dei servizi particolari? Dropshipping? Quindi non avete il proprio magazzino ma fate spedizione diciamo di un magazzino terzo? Esistono insomma molte questioni legate proprio al servizio come volete erogarlo. Avete un mercato B2C o B2B? Quindi anche questo qui fa molta differenza. Vogliamo aggredire un mercato di consumatori finali o vogliamo espandere la nostra azienda in ambito business to business? Quindi magari agevolando quella che è la vendita dei nostri agenti e dei nostri partner. Quali sono i prodotti che volete trattare? Sono prodotti a brand o non sono prodotti a brand? È chiaro che in internet se vendiamo un prodotto che ha un marchio è in qualche maniera un pochino più semplice rispetto a vendere un prodotto che non ha un marchio. Chiaro che magari anche i margini possono cambiare quindi anche quel tipo di ragionamento lì va fatto. O magari il prodotto lo produci tu quindi va fatto un'attività di costruzione del brand su quel prodotto perché altrimenti il mercato non conoscendo il tuo prodotto potrebbe non avere la fiducia sufficiente per scambiare valore con il tuo progetto. Oppure magari avete prodotti innovativi. Quindi quali sono i consigli che posso darvi? Innanzitutto come detto ragionate in termini di modello di business quindi ragionate su come il vostro progetto dovrà essere sviluppato. Cercate di capire se andrete incontro a un mercato B2B, B2C quindi un mercato verso il consumatore finale o magari verso altre aziende magari favorendo quello che è lo sviluppo della rete agenti. Cercate di capire che prodotti volete trattare tra prodotti a brand, no brand c'è una grossa differenza in termini di fiducia da parte delle persone. Cercate di scegliere mercati dove magari conoscete il vostro target e quindi magari avete delle informazioni sui loro desideri che può essere interessante per il vostro sviluppo del progetto e alla fine non dimenticate la parte di logistica quindi il magazzino come spedirete i prodotti se partiranno dal vostro magazzino con che tempistica è sicuramente un altro tema molto importante. Altro discorso sicuramente a tenere conto è la parte di costi quindi se per realizzare il vostro progetto magari ci sono dei costi particolari dovete capire a livello di marginalità se questo è sostenibile. Vi voglio lasciare con ultimo consiglio. Cercate di affrontare questo viaggio come un percorso di crescita personale e imprenditoriale e sarà comunque sempre un successo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.